Ciao a tutti e bentornati finalmente nel mio canale. Oggi sono qui con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca. Un saluto a tutti. Questo video è il primo di una serie sulla comunicazione e la suggestione, ma in questo video in particolare parleremo di come possiamo manipolare la cosiddetta realtà con le parole e creare suggestioni. Quindi chiedo a te come possiamo manipolare la realtà? Allora, quando hai detto bene prima, quella che noi chiamiamo realtà, perché quella che noi chiamiamo realtà è quella che viene percepita dai nostri sensi. Tutto ciò che non viene percepito dai nostri sensi, noi abbiamo difficoltà a percepirla come realtà. Ma è possibile anche non manipolare la realtà? Impossibile. Cioè nel senso che ogni volta che noi comunichiamo un qualcosa che noi definiamo realtà, siamo costretti a fare tre operazioni importanti o fondamentali. Quindi cancelliamo una parte dell'informazione, generalizziamo l'informazione e la possiamo distorcere. Cancellare che cosa vuol dire? Se io ti dicessi guardati attorno e memorizza almeno cinque cose rosse che vedi, tu potresti memorizzare cinque cose rosse. Però se dicessi cosa c'è sul tavolo, questo l'hai cancellato. Cioè focalizzi l'attenzione su un qualcosa, ogni volta che focalizziamo l'attenzione su qualcosa ne cancelliamo un'altra. Necessariamente. Allora io posso valorizzare un aspetto delle realtà e cancellarne un'altra. Oggi parleremo principalmente di questo. In che modo un certo tipo di informazione è stata esaltata, mentre un'altra è stata completamente cancellata. Quindi abbiamo la cancellazione e la valorizzazione. Ci sono poi altri strumenti? Ce ne sono tantissimi, però questi altri due sono i classici. Uno è la generalizzazione. Quando parliamo di generalizzazione, nella vulgata è fare di ogni erba un fascio. Io generalizzo quando dico la gente, i vaccinati, i non vaccinati, i malati. Gli stranieri, gli italiani, i bambini, gli anziani. Perfetto, ma non solo sto generalizzando, sto anche cancellando. Quali sono degli esempi di generalizzazione che possiamo ora leggere o dire? Ricordiamoci, questi strumenti che sono la cancellazione, valorizzazione, generalizzazione e distorsione avvengono contemporaneamente nella comunicazione. Adesso faccio un esempio. Io posso dire una cosa. Quella persona non è risultata positiva o si è ammalata. Tu cosa comprendi? Questa è una comunicazione suggestiva e non è precisa. Cosa ti manca? L'informazione sul vaccinato. Ti manca chi è, quanti anni ha, qual è il suo stato di salute, come mangia, come pensa, qual è il suo stato emotivo. Allora ogni volta gli dico il vaccinato, il non vaccinato, gli è successo questo. Se mi manca un'informazione a monte, io generalizzo. È come se mi identificassi una persona, può succedere anche a me ad esempio. Il punto non è questo. Io devo sapere se io invece so questa persona a questa età, ha queste panattie pregresse, ha questo stile di vita, pensa in questo modo, prende determinati farmaci o non li prende, ha uno stato emotivo di un certo modo, io posso valutare in maniera più completa quella che viene chiamata l'informazione. Quando noi parliamo invece dell'informazione suggestiva, nell'informazione suggestiva mancano un sacco di particolari. Noi generalizziamo, tra virgolette, e ci identifichiamo nella situazione. Cioè è come se fossimo scoperti. Stavo pensando che si può fare una distorsione anche dicendo due frasi che in sé sono vere, ma accostandole poi crei una manipolazione. Tipo? Tipo questa cosa che avevo sentito alla radio, che dava un'informazione di questo tipo. Ormai il tot per cento degli italiani sono vaccinati, ma c'è ancora una percentuale che non si è immunizzata. Ok, questa qui è una distorsione. La distorsione, questa distorsione è questa, equiparare il vaccinato a immunizzato. Senza dirlo. Senza dirlo. Senza dirlo. Però è una distorsione ovviamente, perché una persona è vaccinata vuol dire che ha avuto un siero, ha avuto un qualcosa, stiamo parlando del covid ovviamente, ha preso questo. Ma la reazione al corpo, al b***o, non è scritta da nessuna parte, è personale e dipende dalla persona, il modo di pensare, il modo di essere, dall'età e tanti altri fattori. Cioè io faccio una distorsione, sì, è una distorsione, vuol dire do un'opinione che non è legata a quello che è successo. Se una persona è b***a, è solo b***a. Se è immunizzata io devo controllare, ma immunizzata vuol dire anche un'altra cosa, non che è immune, io controllo ha formato degli anticorpi. No, però la frase mi piaceva perché i b***i non li chiamava immunizzati, i non b***i li chiamava non immunizzati. Quindi sono due frasi vere, il 28% di italiani sono b***i, ma c'è ancora una percentuale che non si è immunizzata. Perfetto, e questo lo crede, cioè è stupenda, ancora non l'avevo acchiappata più nella sua completanza. E' vero, questo lo volevo dire, sono due frasi che possono essere veritiere. Però ti fa indurre a credere determinate cose. Io oggi volevo parlare principalmente di un aspetto rispetto ai tre strumenti con cui manipoliamo la realtà, valorizzazione, cancellazione, generalizzazione, che faremo in un'altra volta è la distorsione, su cosa vuol dire valorizzare. Quindi come facciamo a valorizzare un'informazione? Ora leggo alcuni esempi di alcune informazioni che sono state poco valorizzate, per non dire cancellate, poco ripetute. Immaginate soltanto se un'informazione del genere portata da un giornale fosse ripetuta tantissime volte, e in prima serata o in tutti i giornali più importanti. Gli infermieri siamo b***i, però tra noi è boom di infezioni. Io non entro nel merito se vero o falso, ovviamente se lo scrive un giornale potrebbe essere tacciato di dare cattive informazioni. Se non è stato tacciato per questo, vuol dire che forse una piccola base c'è. Gli infermieri siamo tutti b***i, però tra noi è boom di infezioni. Se venisse ripetuto... Tutti i giorni. Tutti i giorni. Come si sentirebbero le persone? Potrebbero iniziare a farsi delle domande. Green Pass. Il problema è la falsa sicurezza. Titolo di un giornale. Di un solo giornale, detto una sola volta. E se fosse ripetuto non dico all'infinito. I governi forzano sui b***i, anche se la scienza ha dei dubbi. Sto sempre dicendo, io non entro nel merito se è vero o falso. Io entro nel merito che per noi diventa vero quello che viene ripetuto più volte, e quello che, oltre ad essere le prime volte, noi ascoltiamo prevalentemente e dai giornali o televisioni di cui noi ci fidiamo. L'obbligo, c'è soltanto in Arabia e Turkmenistan. L'obbligo vuol dire delle... La maggior parte delle persone pensano che gli obbligi che ci sono in Italia, ci sono in tutto il mondo e in Europa. Sapere che sia il tanto per noi italiani e se venisse ripetuta ossessivamente, cosa succederebbe? E poi se siamo vicini al Turkmenistan, ora non so loro come... Contagi, ricoveri, decessi, rinumeri che l'Istituto Superiore Sanità non svela. Immaginate un'informazione di questa in prima serata ripetuta, ripetuta, ripetuta. Creerebbero dei dubbi enormi nella popolazione. Poi c'è, ecco, questo qua è un gioco di parole. Molti accusano o dicono che questi sono dei b***i sperimentali. E chiaramente chi prova a dire che sono b***i sperimentali viene tacciato di incompetenza. No, per un flottista. Eccetera. Poi ti accorgi, ma allora cosa sono questi b***ini? Sono ad approvazione condizionata. Adesso la mia domanda è, che differenza c'è? Che cosa significa l'approvazione condizionata? Io non lo so. Che è approvato ed è condizionata i risultati che avremo fra due o tre anni. Che vuol dire? Che nel 2023 avremo il resoconto di quanto hanno fatto. Quindi siamo noi lo sperimento. Sì, aspetta, ma una cosa è dire sperimentale. Una cosa è dire approvazione condizionata. Cioè che ce li danno per un po' e poi tra un paio d'anni raccolgono le informazioni e valutano se darceli ancora. Perché ecco, l'autorizzazione era, era ancora il tipo condizionale perché l'EMA chiede che siano raccolti i dati almeno per un anno sull'andamento. Anche se poi le persone che hanno avuto effetti collaterali non vengono proprio ascoltati per quello che ho. Quello è un altro, questo è un altro piano che riprenderemo. Una persona, se è positiva, è infetta o è malata. E questo è qualcosa che molte persone non sanno. Ma la cosa interessante, io ho ascoltato dei programmi televisivi in cui dico, è inutile che lo ripetiamo perché le persone lo sanno che il positivo non è malato. Io ho dei dubbi. Poi c'è un'altra cosa abbastanza importante che ho trovato, qui l'ho trovata in una conferenza di Fusaro, in un suo libro anche, che prima vi erano i cosiddetti portatori sani. Cioè cos'è un portatore sano? È una persona sana che può essere positiva, positiva tra virgolette, dei virus o dei batteri. Cioè nel senso, portava all'interno del proprio corpo dei virus o dei batteri che potevano essere considerati patogeni, con una carica molto abbastanza bassa, ma erano sani. Adesso non si parla più di portatori sani, perché se è sano non potrebbe essere obbligato a fare delle cose. Adesso si parla di malati asintomatici. È molto bello dire malato o asintomatico, cosa vuol dire? Io non ho il sintomo ma sono malato. Ma come faccio ad essere malato se non ho sintomi? Però ormai nella vulgata, in tratus, è un malato asintomatico. Ma in genere la malattia si evince dalla sintomatologia. Se non c'è una sintomatologia, non c'è una malattia. Una potrebbe dire ma sta in incubazione. Potrebbe anche darsi, ma in quel momento non sei malato, sei in incubazione dalla malattia. Questo vuol dire che con le parole noi possiamo manipolare la realtà in maniera molto ma molto, come si può dire, molto ma molto greve o pesante o influenzabile. E quindi alla fine qual è lo scopo della comunicazione? Scopo della comunicazione. Quando noi parliamo dello scopo della comunicazione per la maggior parte delle persone, lo scopo della comunicazione è informare. Io comunico per informare o comunico per entrare in relazione, comunico per condividere o cose di questo genere. È importante comprendere una cosa un po' più dura o cruda. Lo scopo della comunicazione è il ritorno. Cioè cosa vuol dire? Che ogni persona, quando comunica, ha come scopo il ritorno. Il ritorno è cosa vuol dire? Il risultato. Ogni volta che sentiamo parlare qualcuno, la domanda è cosa vuole ottenere tramite quello che ci racconta. Sempre. Sempre. Perché io mi farei un'altra domanda. Chi di noi comunica per non ottenere qualcosa? Aspetta, ma quando io parlo di ottenere qualcosa non intendo qualcosa di negativo. Qualunque cosa. Io posso fare una conferenza gratuita in un posto, il mio ritorno è la soddisfazione, ho il piacere di aver aiutato una comunità, un'associazione o qualcosa del genere. Ma ogni volta che noi comunichiamo abbiamo sempre un ritorno. Poi bisognerebbe anche valutare un'altra cosa. Le persone che parlano, che vogliono ottenere un ritorno, parlano perché hanno un ritorno di tipo economico, un ritorno di prestigio o ritorni di qualsiasi altro genere. Affettivo. Ma il ritorno ci deve essere sempre. Questo non vuol dire che io non mi fido delle persone, però ovviamente quando una persona comunica, stare attenti a cosa mi vuole dire e perché me lo vuole dire. E questo è il motivo per cui quando abbiamo parlato, ci sono gli strumenti con cui noi manipoliamo le realtà. Bisogna anche capire, ma essere in buona fede vuol dire dare delle buone informazioni? Non necessariamente. Non necessariamente, perché io posso essere anche in buona fede, mi prendo delle informazioni non corrette e divento un replicante. I replicanti sono tantissimi. Ormai siamo una nazione non più di allenatori di calcio, ma di virologhi. Io sento quello che si dice principalmente in televisione, che viene ripetuto più spesso, o quello che mi ha suggestionato, lo ripeto in buona fede, pensando che questa sia la verità assoluta. Mentre dobbiamo sapere che le cose sono leggermente più complesse. E ne parleremo meglio nella prossima puntata. Quindi oggi abbiamo parlato dei modi con cui si può manipolare quella che chiamiamo realtà, quindi la valorizzazione, la cancellazione, la generalizzazione e distorsione e anche la ripetizione. Assolutamente la ripetizione, perché poi magari qualcuno che si può fare una domanda, però può anche notare che viene fatta sentire soltanto una campana, come si suol dire, da tutto quello che è il media giornale. Quindi anche lì è un modo per... Cioè il dibattito c'è poco. Ecco, però la ripetizione vuol dire, nell'immaginario collettivo, se tutti dicono la stessa cosa, ovviamente è la verità. Ovviamente, soprattutto per persone magari un po' più anziane, con poca cultura, che possono affidarsi... Eh no, le persone che si fidano e che non hanno alla base, come si chiede, un background, un qualcosa, diciamo, una base su cui confrontare il loro sapere con quello che viene detto, per vedere se c'è un contrasto, se c'è qualcosa che non quadra. E va bene, quindi noi ci vediamo al prossimo video con... Nel prossimo video parleremo sempre di queste cose e la cosa che ho notato, di cui voglio parlare è questo. Ho partecipato a una conferenza e mi sono accorto che il relatore, adesso non so se lo faceva come parte, come ruolo, o perché ci credeva veramente, ha parlato della... una decina di cose che in televisione ripetono più spesso. E ho notato una cosa, che sempre il discorso di ripetizione, ripetere quasi sempre in maniera ossessiva le stesse cose. Mentre un altro mondo, quello che contesta, è troppo dispersivo, cioè in genere ogni volta si cercano i punti deboli, però si cammina al rimorchio. Ok, ci dobbiamo salutare perché si è scaricando. Quindi noi ci vediamo al prossimo video in cui parleremo anche di queste cose. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Ciao.